Strada facendo di pezzi ne ha persi, certo qualcuno lo ha anche recuperato, ma il saldo ad oggi è nettamente negativo. Il sindaco Firetto, partito con una solida maggioranza di 21 consiglieri, adesso a distanza di un paio d'anni si trova a doversi misurare in aula, quasi a pari livello con le opposizioni. L'ultima defezione si chiama Angela Galvano che ha lasciato il PD di cui era capogruppo per approdare al Movimento Democratico Progressista articolo 1 di Angelo Capodicasa. Galvano ha annunciato di aver abbandonato anche la coalizione governativa. Numeri alla mano, così il cartello antifiretto conta ben 14 consiglieri, 6 di Forza Italia, 4 di Mauriani, anche loro ex di maggioranza, i due ciminiani, una componente grillina e la neo arrivata Galvano. Lago della bilancia, l'ex pentastellata Monella che si è dichiarata indipendente anche se spesso corre in soccorso della coalizione a sostegno del sindaco. Questo ad oggi lo scenario dentro Aula Sollano. E oggi sulla questione prende posizione il capogruppo delle PDR Sicilia Futura, Nuccia Palermo. Il dato politico che emerge, sottolinea, risulta essere un sempre più evidente sgretolamento di quella che tempo fa sembrava una maggioranza granitica. E la prima prova di forza superata dall'opposizione è avvenuta nella scorsa seduta in cui il Consiglio, con lo straordinario ed inaspettato aiuto di Riolo, che è anche assessore, aggiunge la Palermo, è stata bocciata la modifica del regolamento presentata dalla Commissione Sesta, volta alla limitazione drastica dei minuti di intervento dei consiglieri. Si è passati insomma da un solido 62%, sancito dal trionfo di quel lontano giugno di due anni fa, insiste il capogruppo dei ciminiani, che vedeva la vittoria del primo cittadino con le sue sette liste e 21 consiglieri all'interno dell'assise comunale a soli 15 soggetti attuali. Crediamo che questo sia il frutto di scelte in solitaria e poco condivisibili sia all'interno del Consiglio che con la città tutta. Crediamo insomma che sia mancata la connessione tra amministrazione attiva e Consiglio e in assenza di questo collegamento la disfatta sembra purtroppo inesorabile. Questi sono numeri e i numeri non sono mai opinabili ma servono a far riflettere sull'operato di questa amministrazione, conclude Nuccia Palermo, auspicando ancora ad oggi in un cambio di passo.